Mi chiamo Margherita Hoffman, ho 25 anni e sono all'ultimo anno di dottorato in matematica all'ENS. La congettura di Goldbach è uno dei problemi risolti più importanti della matematica. Come va? Non sei stressata, tesoro? Sono in piena revisione. Non ho capito il calcolo della costante C. Quindi tu non puoi eliminare K, N e Delta contemporaneamente. In effetti questo invalida il tuo ragionamento. La sua partenza improvvisa ha fatto scalpore. Se non completerà la tesi, la scuola le chieterà indietro i soldi della borsa di studio. Non ritornerò sulla mia decisione. Stai imparando il catalogo a memoria? Sì. Non hai pagato l'affitto questo mese. Come pensi di trovare mille euro entro sabato? Mahjong. Se ti organizzo le partite mi dai il 20%. Mahjong. 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 Lo capisci che ho paura per te e che mi preoccupo dopo quello che è successo? Ti preoccuperai sempre. Per questo è più facile mentirti. Bisogna essere solidi per lavorare su Goldback. È un problema labirintico. No, scherziamo. Adesso esagere. Ho trovato l'ultimo passaggio. È un nuovo metodo mai sperimentato. È magnifico. Devo fartelo vedere assolutamente. Grazie a tutti.